Grazie a tutti Benvenuti al punto, la trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, come sempre mezz'ora con i nostri ospiti per approfondire tematiche di attualità ed amministrative. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata, il saluto Silvano Rometti, dei socialisti riformisti, presidente della Commissione Statuto. Saluto Claudio Ricci, della lista Ricci presidente, lo ricordo candidato alla presidenza della Regione nel 2015. Il tema principale rimane ancora quello della sisma, emergenza, ricostruzione, un po' tutto. Siamo in un momento particolarmente difficile, anche perché l'inverno non è stato clemente per niente, per cui situazioni critiche si sono chiaramente verificate. Insieme ai nostri ospiti però, siccome hanno vissuto entrambi anche da amministratori il terremoto del 1997, la seconda domanda sarà proprio questa. Capire il modello di ricostruzione di quel terremoto di vent'anni fa è quello che arriverà in questa circostanza. Parto da Silvano Rometti, come vedi la situazione attuale in Val Nerina? Direi che come l'Umbria è solita fare, è riuscita a gestire bene l'emergenza, sapendo che naturalmente in una situazione di difficoltà come quella che si rileva all'indomani di un terremoto, che peraltro rispetto al passato ha avuto anche una evoluzione più complicata, perché è partito ad agosto, poi abbiamo avuto una scossa molto importante successivamente, poi comunque c'è uno sciame sismico che chiaramente mette anche dura prova alla resistenza della popolazione. Quello che era necessario fare è stato fatto, chiaramente poi se ascoltiamo la popolazione c'è sempre qualcuno che come vediamo anche dagli organi di stampa ci sono anche qualche elemento di insoddisfazione rispetto ai tempi, rispetto, però ritengo che l'Umbria anche per le vicende che ha avuto nel passato ha un meccanismo abbastanza rodato per quel che riguarda la risposta all'emergenza. Certamente ora abbiamo dei problemi davanti che vanno affrontati con un tempo medio-lungo, il primo di tutto è questo di una situazione che dall'agosto dell'anno scorso, per quel che riguarda tutta una serie di attività economiche a partire dal turismo, c'è una ricaduta che oramai riguarda tutta la regione e quindi è un punto. E poi c'è la ricostruzione vera e propria che dovrà essere messa in atto e anche qui alcune questioni si rilevano dal punto di vista delle procedure, dovremo stare un po' attenti. Adesso noi come regione c'è questo obiettivo di una legge urbanistica, di una legge che possa dare i criteri per quel che riguarda la ricostruzione, quindi su questo ci sarà una discussione che si apre. Ci torneremo oltre a poco chiaramente per approfondire altri argomenti collegati al sisma, non solo per la Valnerina ma per l'Umbria intera, quindi parleremo oltre a poco anche del turismo legato, e quindi dell'economia legato a questo sisma. Ricci, che differenza c'è vivere un terremoto da amministratore locale, come lo fu lei nel 1997, poi diventò sindaco successivamente, e da rappresentante regionale a livello di istituzione? Qual è la differenza principale? Credo che nel quadro dell'Assemblea legislativa ci si occupa non solo della parte operativa, ma soprattutto delle leggi del quadro legislativo. Da questo punto di vista voglio ricordare che recentemente il Consiglio regionale ha approvato una legge sulla conclusione della ricostruzione del 1997. È una legge importante perché mette a disposizione circa 215 milioni di euro che serviranno per completare gli interventi non prioritari che sono rimasti aperti nel quadro del sisma del 1997. E ci auguriamo, questo è stato l'intendimento del Consiglio regionale, che tali risorse possano anche essere utilizzate per completare i sismi successivi al 1997. Ricordo quello dell'area ternana e quello dell'area del marcianese. Su questo terremoto 2016-2017 innanzitutto mi auguro che possa continuare questa forte collaborazione fra tutte le istituzioni, le componenti sociali, economiche, sindacali. L'unità in questo momento è la cosa più importante. Questa è un po' l'esperienza che discende anche dal 1997. Quella ricostruzione dell'Umbria alle Marche e in Umbria sono stati investiti 5,5 miliardi di euro in quel periodo. Andò bene perché tutti ebbero ad impegnarsi per quanto potevano. Tre aspetti su questa ricostruzione. Il primo, essere più veloci possibili per la dotazione delle cosiddette casette provvisorie. Assumono degli acronami, SAE, Soluzioni Abitative in Emergenza, OMAP, Moduli Abitativi Provisori. Ma le casette devono essere posizionate nel minor tempo possibile, soprattutto per le zone extraurbane o per le attività agricole. Il secondo elemento che ricordava anche il consigliere Silvano Rometti e lo voglio sottolineare, è quello della semplificazione. Semplificare il più possibile e consentire l'autocertificazione di tutte le procedure. Terzo elemento è le risorse. Dovremmo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, essere molto attenti affinché le risorse nel Centro Italia siano tutte quelle che sono necessarie. Io ho citato in Consiglio regionale che le quattro regioni del Centro Italia dovrebbero avere nei prossimi anni non meno di 20 miliardi di euro per completare la ricostruzione delle case, per completare la ricostruzione delle attività, dei beni culturali e anche avere un 15% circa di queste risorse per le opere di valorizzazione e anche per il sostegno ai danni indiretti per il turismo. Allora, ha fatto due risposte in una, per cui adesso andiamo a bilanciare i tempi con lei Rometti, poi torno comunque da Claudio Ricci. Per quanto attiene queste soluzioni, di cui parlava adesso Ricci, delle casette di questi moduli abitativi, ma soprattutto rispetto al 97, dove le zone rosse praticamente venivano chiuse, la differenza è che in questo sisma si sta accorrendo invece per non chiudere i centri storici, tant'è che arrivano notizie dell'ultima ora anche da Norcia, si ampli ancora più, cioè si restringe la zona rossa ampliando ancora più le zone di accesso, proprio perché altrimenti, come preventiva a Ricci qualche giorno fa, dato che ci sono voluti 20 anni per la ricostruzione del 97, probabilmente saremo lì come tempi per la conclusione di tutto e sarebbe un po' troppo. Che dice lei? Innanzitutto rispetto al 97 questo terremoto che ha avuto comunque danni enormi è più concentrato, nel 97 noi avevamo una situazione che riguardava la città di Foligno, che riguardava anche aree urbane, Perugia, io ero vice sindaco, entrai proprio in giunta, c'era Sisi, è la situazione che vive le Marche oggi, le Marche hanno 47 comuni terremotati, tra cui c'è Camerino, Tolentino, quindi città medio-grandi, che noi abbiamo, come dire, nell'ambito di una vicenda chiaramente sfortunata e grave, però una situazione più circoscritta e dove possiamo concentrare un po' meglio l'attenzione. Sicuramente all'inizio, come sempre succede, c'è un meccanismo prudenziale naturalmente, c'è la gente che esce da casa, anche se magari l'abitazione non è inagibile, perché le scosse, la paura, e questo è successo anche da una prima valutazione dei danni, che ha riguardato alcuni centri storici, a partire da quelli della Norcia, poi si è visto con una valutazione più distaccata, dopo un po' di tempo, che alcune parti, anche dalle visite che abbiamo fatto, alcune parti della città possono essere aperte. Questo è molto importante, perché abbiamo visto che questo ha consentito anche il reinsediamento, magari non nello stesso spazio, però in zone sempre all'interno del centro storico, di attività commerciali o di altro tipo, che consentono a quella realtà di vivere, di ricominciare a produrre un'economia fondamentale, perché altrimenti si rischia uno spopolamento che diventerebbe in alcuni casi irreversibili. Quindi da questo punto di vista credo che questa è una cosa positiva che è avvenuta. Ricci, lei molto spesso, ma questo è un argomento che riguarda un po' tutta l'amministrazione regionale, punta il dito sullo stop che ha avuto praticamente il turismo in Umbria. Il turismo è un motore insostituibile per il PIL regionale, per l'Umbria. In 97 assisi, che è un po' il fulcro del turismo, soprattutto quello religioso, ma non solo, fermò il turismo in intera regione. Anche la Valnerina, Norcia, diciamo, è un polo attrattivo di grande importanza. Si è fermato nuovamente il turismo. Vuoi per la comunicazione, probabilmente esasperata, fatta dai mass media, questa è una delle situazioni da affrontare, o altro. Lei che pensa? Quando può ripartire il turismo e come può ripartire? Vi è un'analogia da questo punto di vista con il sisma del 1997. Ricordo in quel periodo che chiuse le grandi basiliche di Assisi, in particolare la basilica di San Francesco, il turismo in Assisi diminuisce del 50% e con esso quello afferente alla regione Umbria. In questo caso noi abbiamo un ampio problema, non solo in Valnerina, ma i riflessi negativi indiretti della comunicazione ormai sostanzialmente riguardano tutta l'Umbria. Cosa fare? Io ho proposto in Assemblea legislativa che bene la comunicazione, ma soprattutto occorre fare una grande opera nella commercializzazione del prodotto turistico. Dal mio punto di vista, credo che sia importante invitare qui in Umbria i principali tour operator, tour organizer, ma anche i dirigenti dei grandi motori di ricerca internet per fargli visitare la nostra regione, fargli vedere che tranne la Valnerina i nostri beni culturali, la ricettività, i servizi sono rimasti perfettamente illesi e quindi si può venire in Umbria a fare turismo, anzi, il fatto che siano rimasti illesi è un segno che è anche un territorio sicuro da questo punto di vista. Quindi occorre una forte azione nella commercializzazione del prodotto turistico, invitando qui i grandi tour operator italiani internazionali. Concludo dicendo che in Valnerina invece bisognerebbe trasformare i grandi cantieri della ricostruzione, soprattutto dei beni culturali che mi auguro possano iniziare in tempi rapidi, in un elemento attrattivo del turismo, perché credo che i turisti possano avere molto interesse anche dal punto di vista emozionale a visitare i cantieri, magari aggiungendo anche tecnologia, ricostruzioni tridimensionali, ologrammi, innovazione tecnologica che possa rendere la visita anche particolarmente attraente e interessante. In Valnerina la ripresa del turismo coinciderà anche con la ripresa delle attività in parte economiche e commerciali legate ai prodotti tipici. Prometti, è chiaro che rispetto al 1997 oggi i mezzi di comunicazione, di informazione sono diversi, no? Sono arrivati social network e internet in maniera molto più ampia rispetto a vent'anni fa, chiaramente. È d'accordo su queste linee di Ricci, su queste sue proposte? Sì, assolutamente. I dati sono questi. Noi avevamo in Umbria ad agosto del 2016 un turismo che sia per presenze che per, diciamo, arrivi aumentava del 5-6%. Era aumentato rispetto all'anno precedente. Quindi un buon... E l'Umbria è una regione che investe sul turismo, quindi chiaramente questa è una leva che dobbiamo sempre presidiare. Da agosto c'è un calo del 30%, quindi questa, soprattutto per quei territori, è un'economia sicuramente importante che va rilanciata. Quindi comunicazione, le cose che diceva Claudio Ricci, sono assolutamente condivisibili. Io ho fatto un'interrogazione nei giorni scorsi che mette l'accento su un altro aspetto che riguarda un po' gli attrattori di quel territorio. Noi abbiamo in Valnerina 172 chiese, poi ci sono castelli, rocche, cinte murale, tutto un patrimonio culturale minore, fra virgolette, che naturalmente in questi primi mesi, non dico che è passato un po' in secondo piano, ma tutta l'attenzione è andata attraverso il convento di San Teutizio, l'abbazia benedettina, oppure la chiesa di San Benedetto e quant'altro. Ci sono molti di questi beni culturali sparsi nel territorio che ancora oggi hanno bisogno, come dire, anche di primi interventi di messa in sicurezza, di copertura. Ci sono dei beni mobili, i quadri, le opere che stanno magari sotto e che debbono essere meglio tutelate per poi essere, diciamo, riportate. Quindi, questo è il lavoro che bisognerà fare, perché, ecco, guardando un po' al medio periodo, credo che quel territorio potrà vivere, potrà riprendere quelle che sono le sue capacità attrattive se noi tuteliamo, salvaguardiamo non solo il patrimonio più importante, ma anche questo patrimonio diffuso, minore, fatto di borghi, di centri storici, di una serie di presenze che sono assolutamente fondamentali. Quindi, e credo che, ecco, su questo, peraltro la Regione ha il suo ruolo, ma poi ci sono, su questo è naturale che c'è le sovrintendenze che hanno, diciamo, la titolarità di questi interventi e bisogna che vengano fatti al più presto. Allora, al di là della ricostruzione più o meno veloce per quanto riguarda il turismo, per il turismo, al di là del sisma o non sisma, chiaramente bisogna mettere in ordine o comunque, diciamo, ampliare la possibilità, insomma, di raggiungere l'Umbria attraverso una rete viaria migliore, questo mi sembra sia stato da sempre toccato come argomento. Lei, tra l'altro, è stato assessore, se riparto da lei, Rometti, è stato anche assessore ai trasporti, come pure all'urbanistica, nella scorsa legislatura. L'aeroporto è uno dei punti di riferimento per far arrivare in Umbria, diciamo, che è il mezzo principale per portare i turisti nella nostra regione. Allora, cosa prevede lei? Di cosa avrebbe bisogno questa infrastruttura aeroportuale? Premetto, innanzitutto noi lo abbiamo detto, io lo dissi, nella prima riunione che facciamo come commissione consigliare a Norcia, noi dobbiamo innanzitutto cogliere l'occasione di questo terremoto per cercare di mettere in sicurezza e adeguare l'accessibilità di quel territorio, la Trevalli soprattutto e non solo, perché non si va in un territorio, non si va per turismo per altre ragioni se poi uno ha paura che alla prima scossa magari non riesce neanche a uscire perché purtroppo da quei versanti cadono massi e quant'altro. Quindi c'è e devo dire che queste prime misure di 52 milioni di euro che il governo ha segnato per appunto l'adeguamento della viabilità e c'è stato un incontro l'altro ieri a cui ha partecipato l'assessore Chianella con il ministro del Rio è già una prima risposta importante ma credo che questo dovrà essere una delle altre questioni e anche Claudio Ricci in Consiglio regionale l'ha sempre sottolineata e ne vorremmo fare anche un momento di confronto con l'ANAS e con la provincia che comunque mantiene competenze sulla viabilità pensiamo a tutto l'accesso alla montagna che in questo momento di fatto è interrotto quindi questo è un punto centrale per venire in nome naturalmente l'aeroporto continua a essere una come dire una delle insomma l'infrastruttura più importante abbiamo visto qualche come dire abbiamo perso qualche colpo l'anno scorso con questa vicenda della Ryanair che ha sospeso dei collegamenti insomma bisogna insistere io sono sempre convinto come quando facevo l'assessore che comunque bisogna uscire un po' da questa gestione autarchica dell'aeroporto dove tutto è in mano a di fatto istituzioni locali o a soggetti locali alla Camera di Commercio perché se noi non portiamo dentro la società un operatore di livello nazionale o anche di più che possa in qualche modo metterci in relazione vedo che come dire stenta noi dovevamo essere ad oggi a 4-500 mila passeggeri probabilmente secondo dei piani che invece siamo molto più bassi Ricci e tra l'altro lei su questo argomento fa anche molte iniziative politiche per parlare di infrastrutture viarie soprattutto di aeroporto proponendo nuove rotte con l'Europa dell'Est ma non solo anche con la Spagna e con altri altri paesi europei e mondiali ecco quello che volevo chiederle è proprio questo lei già da sindaco di Assisi ha gestito un po' questa situazione del resto si chiama proprio San Francesco d'Assisi l'aeroporto regionale ecco come prevede lo sviluppo di questa infrastruttura in quanto tempo soprattutto una regione un luogo si sviluppano se vi sono infrastrutture di trasporto e aeree in particolare concordo col consigliere Silvano Rometti iniziando dalla Val Nerina che è la nostra priorità occorre lì definire un piano speciale per la riqualificazione delle strade e magari pensare anche a quali ulteriori infrastrutture di connessione possano dotare questa area soprattutto pensando al suo sviluppo successivo al terremoto e in particolare su questo io ho fatto una iniziativa in assemblea legislativa per sollecitare ANAS affinché possa riprendere in gestione alcune strade non solo in Val Nerina per definire una migliore manutenzione delle infrastrutture stradali aeroporto credo che sia stato fatto un buon lavoro di infrastrutturazione è stato realizzato il nuovo terminal le infrastrutture di terra e i servizi generali ora bisogna lavorare sulle linee aeree per raddoppiare di fatto il numero di movimenti passeggeri all'anno che dovrà toccare almeno le 500.000 unità all'anno per fare questo occorre che la regione investa circa 2 milioni di euro in più all'anno per aiutare la società di gestione a definire degli accordi stabili in particolare con le compagnie aeree Love Coast per rendere stabili quattro linee la prima è sulla Spagna che intercetta anche i flussi che provengono dal Sud America in particolare mi riferisco o a Madrid o a Barcellona la seconda direttrice è la linea stabile tutto l'anno su Londra la terza direttrice è la linea stabile in un aeroporto del centro Europa la quarta direttrice è la linea stabile in una o più località dell'est Europa io parlo di stabilità delle linee perché solo la stabilità delle linee determina sviluppo turistico e determina anche sviluppo di linee commerciali tenendo conto che poi vi è un ritardo importante che a Lumbria che mi auguro possa essere colmato nei prossimi anni e spesso ne discutiamo in consiglio regionale è quello dei sistemi ferroviari mi riferisco in particolare al raddoppio della linea Spoleto Terni mi riferisco al raddoppio selettivo della Foligno Terontola con la stazione ferroviaria in prossimità dell'aeroporto mi riferisco allo sviluppo della ferrovia centrale Umbria se vi è un ritardo da colmare in Umbria oltre a quelli che abbiamo sottolineato c'è quello del sistema ferroviario in un minuto voleva aggiungere qualcosa? no volevo io ho detto bene perché poi l'ultima domanda prima di chiudere ho detto bene Claudio Ricci insomma questi sono gli obiettivi che abbiamo anche nella nostra pianificazione regionale per quel che riguarda il sistema ferroviario che è il vero ritardo infrastrutturale perché sulla rete viaria noi avremo una rete di quattro corsie gratuita che copre bene la regione finite le trasversali e gli interventi che abbiamo fatto in questi anni sull'aeroporto dicevo io non mi rassegnerei perché noi abbiamo anche una legislazione che obbliga gli aeroporti ad andare a pareggio non possiamo più vedere gli aeroporti come di fatto le istituzioni pubbliche in questi anni hanno sempre finanziato l'aeroporto per poter attivare linee fare collegamenti io ho detto che bisogna darsi una società più robusta con degli operatori anche di livello che sono esterni alla regione perché comunque siamo obbligati ad andare verso un pareggio di bilancio e non finanziare continuamente l'aeroporto in un minuto a testa affrontiamo un altro argomento che è quello della sanità lo tocchiamo soltanto perché poi l'Umbria con Marche e Veneto è nelle regioni benchmark anche quest'anno lo è dal 2011 cioè si conferma tra le tre regioni per la definizione dei costi medi standard in sanità per la determinazione delle quote di riporto del fondo sanitario regionale questo è una bella notizia comincio da lei Rometti che è in maggioranza poi vado da Ricci davvero in un minuto sicuramente è una bella notizia conferma quello che l'Umbria ha fatto in questi anni che diciamo da un punto di vista della quadratura economica del sistema che significa anche tenuta del sistema perché altrimenti rischieremmo di impoverire i nostri servizi riusciamo e continuiamo a essere una regione punto di riferimento e questo è uno un po' di fiori all'occhiello di quella che è sappiamo che la sanità è il settore dove la regione visto che si parla spesso male delle regioni la sanità è un settore di diretta responsabilità e competenza delle regioni della regione e riguarda i tre quarti del bilancio quindi credo che dobbiamo essere molto soddisfatti Ricci credo che la regione Umbria nei prossimi anni dovrà guardare innanzitutto alla creazione di un'unica azienda sanitaria locale e un'unica azienda ospedaliera probabilmente con due sedi Perugia e Terni lavorare molto per realizzare il 100% di centralizzazione negli acquisti con la centrale unica regionale acquisti in sanità lavorare molto sulle tecnologie per esempio il fascicolo sanitario elettronico e lavorare molto per poter dedicare queste risorse gestendo meglio la sanità a servizi come quello del raggiungimento dell'obiettivo a mio avviso più importante tra i numerosi e cioè assicurare le visiste sanitarie in 30 giorni e sostanzialmente gli esami in 60 giorni massimo perché credo che si può ancora ottimizzare i costi e dedicare questo per migliorare ulteriormente i servizi i 30 secondi Rometti mi ha chiesto di intervenire voleva dire no io credo che va bene insomma io un punto che vedo una rete ospedaliera rinnovata una serie di interventi la qualità che viene riconosciuta dobbiamo investire anche sulle professionalità la sanità è fatta di professionalità se perdiamo professionalità in alcuni settori rischiamo di perdere qualità Ricci se nel 2015 avesse vinto lei cosa avrebbe fatto che la giunta Marini non ha fatto ecco fino a oggi lavorare molto sul merito non solo in sanità ma per esempio anche nelle scelte all'interno delle partecipate regionali che ancora costano molto alla regione e invece le società esterne partecipate dovrebbero essere migliori e con quei risparmi investire in altro il suo è un giudizio importante che voto da 1 a 10 a questa prima parte di legislatura metà legislatura ormai quasi direi tra il 5 e il 6 perché comunque quando c'è sei politico no diremo per quanto riguarda le partecipate e le altre vicende no in generale io le chiedo in generale direi tra il 5 e il 6 perché comunque durante un sisma bisogna essere sempre collaborato un 5 e mezzo perché cambia poi nel 5 e mezzo 5 e mezzo lo metti io sono più positivo tenendo conto che oltretutto abbiamo affrontato anni difficili sia la ripresa economica non è arrivata come si pensava nel 2014 e 2015 invece purtroppo l'Italia e l'Europa vivono una crisi complicata poi c'è stato il terremoto quindi credo che la regione ha avuto davanti problemi che ha saputo diciamo affrontare bene Ricci siamo fuori tempo però la domanda ve la faccio lo stesso su chi punterebbe lei a livello nazionale in una coalizione di centrodestra ha un nome? poi la stessa domanda è per Rometti in questo momento ancora non c'è un nome tornando però al voto che mi sembra la cosa più importante forse il voto lo ha dato un parametro il 7% in più di povertà che c'è stata in Umbria solo nel settimo anno Bebusconi ancora non c'è un nome credo che lo faccio Berlusconi o Selvini mi risponda qui non credo che nessuno dei due possa rappresentare il centrodestra in questo momento chi può rappresentare il centrosinistra? ancora Renzi? Renzi ma deve correggere diverse cose a partire dal fatto che credo che questa sua idea che il centrosinistra si può ridurre a un partito unico i fatti dimostrano che non è così quindi non abbiamo altro tempo mi sarebbe piaciuto poter approfondire anche argomenti politici con voi mi dia il nome ma io credo che per il centrodestra occorrerebbe un quadro di una persona moderata e molto abituata a gestire l'economia potrebbe essere Mario Draghi grazie per essere stati con noi in questa mezz'ora grazie a Silvano Rometti dei socialisti e riformisti presidente della commissione statuto in assemblea legislativa e a Claudio Ricci della lista Ricci presidente portavoce anche delle liste civiche del centrodestra così era la coalizione con la quale si è presentato nel 2015 buonasera alla presidenza della regione grazie per averci seguito buona settimana ci vediamo la prossima grazie per aver guardato